Apriamo la pagina dedicata al coronavirus in Puglia. A preoccupare, secondo i dati contenuti nell'ultimo bollettino della regione, sono stati i ricoveri. Più di 2000 i malati covid ospedalizzati. Procede la campagna vaccinale e domani è a Pasquetta vaccinazioni per i caregiver di minori con gravi disabilità. Alba Di Palo. Nonostante da tre settimane la Puglia sia in zona rossa, la corsa del virus non si ferma. E se nel primo giorno del mese di aprile a schizzare sono stati i contagi, ieri, stando al bollettino diramato dalla regione, a preoccupare è stato il numero dei positivi in ospedale, 2142. Cifra che si riflette nell'aumento del tasso di occupazione nei reparti di area non critica covid che ha raggiunto il 50%. Stabile al 45 invece il tasso di occupazione nelle terapie intensive in cui si trovano 263 malati. La curva epidemiologica è stata contrassegnata dal segno più nell'ultima settimana sia nella provincia di Bari sia in quella di Lecce. Nella prima dei 41 comuni dell'area metropolitana, Gravina in Puglia ha registrato l'incidenza più alta di nuovi casi di contagio e quanto emerge dal report settimanale fornito dalla ASL. Seguono i comuni di Valenzano, Ruvo di Puglia, Modugno e Santeramo in Colle. In tutta l'area metropolitana barese nella settimana monitorata sono stati registrati 4.552 nuovi casi di contagio da coronavirus con un tasso di incidenza per 100.000 abitanti pari a 370, anche se sono 26 i comuni oltre la soglia di 250 nuovi casi per 100.000 abitanti, due in più rispetto alla settimana precedente. Nelle Cese invece tra il 26 marzo e il primo aprile il tasso di positività, ovvero il rapporto tra test processati e positivi scoperti, è stato del 22,5%, quasi di 4 punti superiore ai 7 giorni precedenti quando era pari al 18,7. L'incidenza di nuovi casi di contagio è stata pari a 228 per ogni 100.000 abitanti. È stato registrato in una settimana un aumento di 711 casi, gli attualmente positivi sono 4.466. Esternatia, l'unico comune della provincia Salentina, con zero casi di contagio da coronavirus. Sono diminuiti i ricoveri e i decessi, specie tra gli ultraottantenni grazie alle vaccinazioni. Sono più di 81.000 i salentini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre sono 43.707 coloro che hanno ricevuto anche la seconda. Non fermare la campagna vaccinale è l'obiettivo della regione che per Pasqua e Pasquetta ha disposto di vaccinare contro il covid. I caregiver, genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi, maggiorenni e non in condizioni di fragilità, di minori di 16 anni, nati dal 1 gennaio 2005, in poi con disabilità grave. L'iniziativa è stata adottata per proteggere e immunizzare chi si prende cura di una categoria fragilissima di persone prevista dal piano di vaccinazione, spiega l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Si procederà in base al cognome del minore con disabilità secondo quanto predisposto dal calendario di ciascuna ASL. Nelle due giornate non potranno essere vaccinati i caregiver e i familiari che si trovino essi stessi in condizioni di estrema vulnerabilità. Loro continueranno a essere vaccinati secondo le modalità finora prevista per ciascuna categoria.